Un grazie dalla città alla città affinché vengano riconosciuti i meriti di coloro che si donano e si mettono a servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio. Il sindaco Massimo Seri ha presentato Cuore Comune, l'iniziativa che si terrà domenica 4 dicembre alle ore 17 al Teatro della Fortuna di Fano, durante la quale verrà dato un riconoscimento a chi ha portato dei benefici o prestigio alla città. Sono diversi infatti coloro che in maniera anonima e silenziosa mettono a disposizione il proprio tempo, risorse e competenze per aiutare il prossimo o spesso dare lusso a Fano. Le figure segnalate entro il 19 novembre verranno valutate da una giuria che ne selezionerà 4. I vincitori poi, oltre a ricevere un premio a forma di cuore durante la cerimonia, entreranno a far parte di un apposito albo. A loro verranno riservati due posti in platea per assistere gratuitamente per un anno agli spettacoli teatrali. Sindaco, è un'iniziativa che lei ha voluto fortemente? Sì, perché io penso che un'amministrazione, una comunità è tale quando riconosce il merito di chi fa qualcosa per la propria città. E allora Cuore Comune vuole essere una giornata dove Fano, attraverso il sindaco, attraverso la sua amministrazione, dice grazie a tutte quelle donne, a tutti quegli uomini che fanno delle cose volontariamente, gratuitamente per la propria città, che lo fanno in modo spontaneo. E questi sono il vero patrimonio che fanno alcune volte la differenza, io vorrei dire i veri cavalieri del nostro tempo. Per cui ci sono quelle persone che rimangono alcune volte anche anonime quando fanno queste cose belle che le troviamo nel quartiere, in una parrocchia, in un'associazione. singole persone che tengono cura del proprio spazio dove vive un quartiere, per esempio un gruppo. Ecco, mi sembrava giusto fare questo momento. E allora abbiamo, ho pensato, perché devo dire è una mia idea, anche venendo da questa sensibilità che ho sempre avuto, perché io penso che il valore più importante siano le persone. La persona deve essere sempre al centro e quando ci sono anche questi bei esempi non è tutto scontato. Qui troppo c'è questa cultura di tutto scontato. Non è vero che è tutto scontato. E quando qualcuno o qualcuna fanno qualcosa di importante, diciamogli grazie. Ecco, il 4 dicembre, perché il 5 è la giornata internazionale del volontariato, quindi facciamo questo momento cuore comune, daremo qualche riconoscimento, ma alcune volte lo si fa per arricchire la giornata, ma in realtà vuole essere questa testimonianza. Per cui vi invito anche a segnalarmi, se conoscete delle donne e degli uomini, o in un'associazione o singoli cittadini, o perché sono in una parrocchia, o che fanno qualcosa di veramente bello, genuino, allora se ce lo segnalate che magari gli diamo un riconoscimento anche noi.